ELECTRIC DAYS 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 Gli Elettrides vogliamo farli crescere, questa è la seconda edizione aperta al pubblico, abbiamo preso un pezzo più grande del parco del Lago dell'Eur, potremmo prenderlo tutto? Chissà, sicuramente con più partecipazione, più partecipazione anche di aziende ma anche della politica, perché noi vogliamo coinvolgere anche le istituzioni, si può far crescere questo evento, l'importante è farlo diventare una grande festa, un grande movimento, passatemi in termini popolari, perché se si vuole parlare alla pancia delle persone che oggi brontola sul tema dell'elettrificazione, bisogna fare una grande festa, essere in uno spazio grande e tutti quanti insieme. La politica purtroppo segue la pancia del popolo, se il popolo in questo momento ha mal di pancia la politica tende ad assecondare le persone e questo è un problema, perché la politica dovrebbe in qualche modo guidare scelte un po' più consapevoli, quindi la risposta è no, oggi la politica in un certo senso alimenta la paura e non va oltre, non approfondisce le ragioni e questo è un pericolo, perché non avere lungimiranza sicuramente non aiuta uscire da questa contro-transizione.